Ticket sanitari che sono aumentati in media del 40%, spendiamo 5 miliardi in più per la specialistica, ormai più della metà degli italiani sono costretti quando hanno bisogno di analisi particolari ad andare privatamente, insomma spendiamo più di 30-35 miliardi direttamente noi privatamente per poterci curare in questo paese. Questo è in estrema sintesi il rapporto della Bocconi-OASI, ho molto piacere di avere qui ad Ippocrate il dottor Nicola Peirelli che è il direttore generale della Fiaso che è la federazione delle asole degli ospedali, benvenuto ad Ippocrate. A cosa sta portando l'aumento di pressione fiscale sulla sanità? L'aumento delle imposte è dovuta ai tagli effettuati a livello centrale a cui le regioni che non riescono a mantenere i conti in ordine devono adire meccanismi automatici di ripiano dei disavanzi attraverso varie forme di... Le facciamo vedere in questo cartello come le regioni si sono industriate per finanziare il sistema sanitario regionale, maggiorazioni delle aliquote IRPEF, delle addizionali IRPEF, rincari del bollo auto, cartolarizzazione dei debiti, insomma super giù è questo il meccanismo che usano. Sì, sono gli strumenti che il federalismo mette a disposizione per farsi di... Dottor Pinelli, però non è così in tutta Italia perché appunto nel nostro paese poi ci sono 20 diverse sanità a seconda delle regioni e vediamolo in quest'altro cartello, ci sono delle regioni che abbiamo definite buone, quelle che non sono ricorse alle addizionali che sono la Val d'Aosa, il Friuli, il Trento e il Bolzano, la Basilicata e la Sardegna e poi invece lo vedete sempre dal rapporto Oasi-Bocconi, quelle che sono ricorse alle addizionali hanno aumentato le tasse, il Lazio, le Marche, l'Abruzzo, il Molise e la Campania. Guardi, è difficile fare una classifica in questi casi tra buone e cattive, come indicatori di efficienza noi abbiamo la spesa pro capite più bassa in Europa che ha dei tassi di incrementi più bassi del mondo negli ultimi dieci anni, quindi sono dati che non tutti conoscono e che è bene che sia i cittadini che gli operatori che anche i nostri decisori politici conoscano appieno. Rispetto ai partner europei più sviluppati, il nostro sistema sanitario costa il 34% in meno, questa è un'ultima stima e però in regioni soprattutto come quelle meridionali si spendono tanti soldi ma poi cosa viene veramente al malato? Questo è un problema a cui siamo, chiaramente uno dei problemi principali che abbiamo adesso nel nostro servizio sanitario con una forte disomogeneità di fronte al nostro sistema universalistico e che dovrebbe garantire omogeneità delle prestazioni a tutti i cittadini, un livello di accessibilità ai servizi e anche un'iniquità di trattamento è intollerabile nel nostro paese e quindi questo è uno degli elementi che ci fa riflettere sul successo o meno della svolta federalista nella sanità. Secondo lei c'è questo successo o meno? Prendendo in considerazione questo dato non possiamo reputarlo un successo. E' chiaro che sono importanti le eccellenze, occorre però considerare che si sta portando avanti negli ultimi anni una vasta operazione di rientro delle regioni più in difficoltà e che questi vasti tagli che sono stati operati dal 2011 ad adesso stanno mettendo a dura prova. E vediamoli questi tagli che ci mettono veramente a dura prova in quest'altro cartello che abbiamo preparato gli ospedali sono passati dal 1997, gli ospedali grandi, gli ospedali italiani erano al 942 siamo arrivati a 638, il dato è del 2002, un po' vecchio ma è l'ultimo a disposizione le strutture private sono rimaste su per giù uguali a 534 come vedete quello che invece ha avuto un vero tracollo sono i posti letto sostanzialmente che molte regioni soprattutto, tipo il Lazio insomma, che con grande deficit hanno dovuto sforbiciare. Ma il taglio dei posti letto fa parte di una riconversione della tipologia di assistenza che viene garantita dal servizio. Diciamo che da questo punto di vista può essere anche considerato una forma di miglioramento laddove ha una diminuzione di posti letti per cure ordinarie, quindi negli ospedali che vengono specializzati per intensità di cura e complessità, quindi per gli acuti in particolare laddove corrisponda a un aumento dei posti in dei ospiti, in dei sergeri e presso strutture territoriali in grado di creare una rete assistenziale anche che esca fuori dall'ospedale. Un'azione che è una razionalizzazione, dice lei, però non si corre il rischio che per risparmiare intere zone, intere aree, soprattutto quelle meno urbanizzate, ecco che queste zone restino scoperte. Se il problema è grave, il cittadino va nella struttura ospedaliera di eccellenza. Per questioni invece meno importanti, il cittadino non deve aggravare l'ospedale di richieste che potrebbero essere svolte in altre strutture. In una parola, questo in sanità si chiama appropriatezza. Non è che spesso quelle altre strutture alternative sul territorio non ci sono. Esattamente, questo è un problema e vediamo che i problemi maggiori esistono proprio dove le strutture di prossimità sono scarse. Grazie dottore.